Un nucleo di aria fredda alla media troposfera, associata ad elevata vorticità, interessa l'Europa centrale e le regioni centro-settentrionali. Nel fine settimana una perturbazione atlantica raggiungerà la nostra penisola. In Toscana, venerdì 5 maggio, tra poco nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con ampie zone di sereno nel pomeriggio. Venti deboli occidentali o assenti, mari poco mossi, temperature in aumento nei valori massimi. Sul territorio provinciale da nuvoloso fino a poco nuvoloso o velato, a Lucca e sulla Piana, temperatura minima 11, massima 23 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 9, massima 21. A Via Regge sul litorale, minima 14, massima 18 gradi. Sabato, peggioramento dalla sera, con piogge e locali temporali. Grazie a tutti.